Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi si entra ufficialmente nel vivo del mese di gennaio Nella scorsa puntata abbiamo iniziato alla grande il mese Vincendo 5 a 4 una partita clamorosa contro il Liverpool Quest'oggi abbiamo un'altra partita di Coppa ma sarà il terzo turno di FK contro il Blackburn E poi abbiamo due importantissime sfide di campionato contro Sunderland Quindi scontro direttissimo e poi affronteremo anche il Bristol Rovers Ma come al solito raga prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace Ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi Ma anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità E a seguirmi sulla pagina Instagram il link del profilo è come sempre in descrizione Ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che è in descrizione Formazione per oggi, Garrido che rimane fra i pali Poi ragazzi ci possiamo tranquillamente permettere di schierare totalmente la prima squadra Ovviamente fatta eccezione per Poppa Quindi Sirkin, Tons, Phillips, Mendes, Schwartz, Diomand, Galbraith, Odebert, Coné e Veil Che è diventato un 73 Adesso abbiamo il tiro offensivo di appunto 373 Quindi ottimo No, qui, no, no Tons, Tons, che mi combini Tons, qui Infatti chiede scusa Qui bruttissimo passaggio sbagliato Arriva il vantaggio del Blackburn E ragazzi attenzione perché in Coppa In FK nello specifico vorrei andare Un altro paio di turni avanti Per arrivare almeno agli ottavi così la dirigenza è contenta Perché altrimenti poi facciamo alla fine dell'anno scorso Che ci scende lì la valutazione totalmente a caso E occhio raga al Blackburn che può ancora avanzare Il tiro è bello potente Garrido lo deve respingere in corner Qui ottima occasione per i nostri avversari E occhio Tons, qui viene ancora beffato E Garrido qui fa un vero e proprio miracolo ragazzi È il Blackburn molto più forte del Liverpool Se posso dire la verità Qui un pallone illuminante di Diomand per Odebert Che può andare Guarda da quest'altra parte Hervie Vail Che non può sbagliare qui Ha rischiato perché ha tirato bello potente Però diciamo uno come lui va sul sicuro in questi casi Uno a uno arriva il gol del pareggio Sì, proprio tu hai segnato Hervie E ok ragazzi termina un bel primo tempo Uno a uno all'intervallo È passato in vantaggio Prima il Blackburn Ma il solito Vail è riuscito a riprenderla Questa partita Comunque uno a uno appunto all'intervallo Vediamo un po' cosa succederà adesso E occhio con E In avanti però Odebert Non è un bel pallone Ma la palla qui è passata Con uno strano bug Qui mi ha calcolato un altro tiro Vabbè un bordello assurdo Comunque è stato di fatto che Abbiamo avuto la chance per passare in vantaggio I trasferimenti quelli importanti che ci interessano Fernandes al corto Comunque palla dentro Galbret di testa E possiamo andare con Coné Attenzione Coné in campo aperto Che non era in campo aperto Persa palla Occhio Philips Ragazzi Philips Però Sbagliamo sempre qua in disimpegno Ragazzi Dentro Madonna che è rito Che cosa ha fatto ragazzi Sensazionale qui il nostro portiere E si riparte con Galbret Pallone troppo corto Per Ville Che comunque può correre Occhio Odebert Da quell'altra parte Odebert Fuori Così Alle stelle Ok Occhio Ville Possiamo avanzare Buono il pallone in avanti Con i cori 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 Dai Vorresti essere velocissimo Invece Wharton Quello falso Ti recupera E Occhio Anche la ripartenza Con Low Thorns Qui Bravo Thorns Bravo bravo Cambi Vabbè cambi Che cambio Sono tutti stanchi Pure quelli che stanno in panchina Posso Solamente mettere Zanzala Per Odebert Quindi Faccio questo cambio Pro Wackford No Mettiamo McKinley Mettiamo McKinley Sulla sinistra Poi anche centrocampo Facciamo riposare Sbagliato Facciamo riposare Diomand E mettiamo Il Buenland Proviamo questi tre cambi Ragazzi Perché poi Bisognerebbe andare Al replay Non è un'idea Che mi affascina Anzi Comunque Calcio d'angolo Palla dentro Respinta E c'è Veil Veil Che cosa ha fatto? È partito Corri 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 Non ci credo ragazzi Forza Veil Dai dai Non farti recuperare Lo so che sei stanco Appoggiala per Zanzala Appena entrato Sulla respinta McKinley Riesce a segnare Il gol Del 2 a 1 Ragazzi L'abbiamo ribaltata Qui Zanzala Si è mangiato Un gol Non da lui Per così dire Comunque Effettivamente Ragazzi Zanzala Non si è mai Dimostrato Decisivo Cioè i gol pesanti Non ne ha mai fatti Ha segnato Anche Abbastanza gol Però sempre Su risultato Di Vantaggio Già ampio E robe del genere Quindi ragazzi Oppure gol inutili Comunque partite Già perse Quindi ragazzi Gli manca solamente Quello Però ovviamente Cosa potrebbe È Galbret Ragazzi Io fino a ora Convintissimo Che fosse McKinley Giustamente In quella posizione Invece Era il buon Galbret Anche Meddi Esulta È un suo modo Per festeggiare Dai ragazzi Ultimo a fondo Per il Blackburn È praticamente finita Anzi è finita La partita L'arbitro Dovrebbe fischiare Phillips Riesce a chiudere E arriva Il fischio Dell'arbitro 2-1 Bellissima vittoria Vittoria pesantissima Questa qui Ci sta molto di più Rispetto a quella lì Con Liverpool Questa qui Molto lottata E sofferta Il Blackburn In championship Se non sbaglio No ragazzi Sono in premier Pure loro Perché hanno Lo stemma Della premier Però è una squadra Che tendenzialmente È in championship È un terzo turno Ci posso stare È una partita Molto tirata Ci può stare Ragazzi Abbiamo giocato bene Poi L'uomo che non ti aspetti Galbret Te la decide Anche se in realtà Ci sta ancora di più Che abbia segnato Galbret Che appunto Dovebbe essere Il nostro giocatore Che ha un po' Un po' di esperienza In più Perché ha fatto Le giovanite In Manchester United Forse ha fatto anche Qualche partite In prima squadra Chissà Comunque ragazzi Arriva finalmente Un'offerta Il Cagliari Su Philips Veramente interessante Però ragazzi Philips Non è un giocatore Da vendere adesso In un mercato Di gennaio Un giocatore Che potrebbe Veramente arrivare Sull'80 O giù di lì Quindi Sarebbe Uno spreco Venderlo adesso Quindi vado A rifiutare Questa Interessantissima Offerta Del Cagliari Comunque ragazzi Occhio che improvvisamente Sono usciti dei soldi Questo Andrew Andrew Si Vale 400.000 Lo ingaggio No Non ci credo ragazzi Avevo i soldi Per prenderne Solo uno Ho pensato Quello sbagliato Praticamente Morton Sta qui Da un sacco di tempo Niente ragazzi Comunque ragazzi Ho visto una cosa No Che cos'è questa No ragazzi Che cosa significa Che cosa mi significa Questo doppio Liverpool Cioè Al quarto turno Di F-Cup Che rappresenta I sedicesimi Praticamente Ho beccato Ho beccato Il Liverpool Pensate E due giorni dopo Due Devo giocare Di nuovo Con Liverpool Il ritorno Della semifinale Di Carabao Cup Che potrebbe portarmi Ad una finale Incredibile Comunque ragazzi La prima Nel F-Cup Si giocherà Nel nostro stadio Moorlane Invece Invece la seconda Da Anfield E vedremo Questo doppio scontro Nella prossima puntata Quindi Avremo un bel Liverpool Day E comunque ragazzi Questo Andrew Si è un C-O-C Abbastanza rapido Però allo stesso tempo A noi non servono I C-O-C E non può fare Il centrocampista Può fare Giustamente L'esterno L'ala Mettiamolo come Ala sinistra Vediamo un po' Se si trasforma Se potrà essere Utile in futuro Sono giocatori che normalmente Scarterei Sono onesto Però in questi casi Ci vogliono Anche loro Comunque ragazzi Comunque La squadra è riposata Bene Anche in panchina Siamo messi Benissimo Mettiamo Baili Mettiamo Zanzala Cioè scusate Mettiamo Ba McKinley Baili in panchina Tutto pronto Siamo tutti Carichi carichi A pallettoni Piccola cosa qui Per i più precisi Come me Comunque ragazzi Sì possiamo scendere In campo Contro il Sunderland Partita decisiva Guardate qua La classifica Il Rotterdam ha già giocato Ma a noi Interessa solamente Questa sfida Senza pensare A nessun altro E ovviamente Ragazzi Anche Sunderland Farà la partita Della vita Sono un pochino Stanchi Cerchiamo di Approfittarne Fa strano vedere Anche il portiere Stanco Comunque Ragazzi Speriamo che possa andare Tutto a nostro vantaggio Da poco Ci hanno eliminato Dall'IFL Trophy Forse sono stanchi Proprio per questo motivo Perché in settimana Hanno avuto La partita di Coppa Comunque Scendiamo in campo Dai ragazzi Dai Faccio possiamo avanzare C'è Connevi Vedi l'inserimento Ottimo Da parte di Pail Forza Pail Da esterno Esterno Un passaggio Troppo corto Qui Non possiamo Sprecare Queste occasioni Visto che sono Il nostro marchio Di fabbrica Ormai Ok ragazzi Fine Primo tempo Zero a zero All'intervallo Partita bloccatissima Ragazzi Veramente Veramente Bloccata E Sono curioso di vedere Sicuramente Anche le statistiche Effettivamente Zero tiri per noi Quattro per il Sunderland Ma nulla Di pericoloso Anzi E occhio ragazzi No qui si è aperto Un buco Uh Winchester l'ha messa fuori L'avevo vista dentro Ragazzi Qua Veramente Chance incredibile Dov'è passata Sta palla Qui Graziati dal commissario E occhio Odebert Può andare L'appoggio Per Conny Odebert Possiamo ancora Andare con lui Odebert E sul fondo Prova a girarsi Ci riesce molto bene Diomand Dentro Ancora Galbraith Etan Galbraith Ha segnato ancora lui Secondo gol consecutivo Ragazzi Vi giuro Volevo mettere Ba Perché proprio Recentemente Avevo detto Che Ba Stava giocando meglio Volevo promoverlo A titolare In un certo senso Ma dopo il golo Che ha fatto con i Blackburn Ho detto Facciamo giocare Galbraith Perché bisogna Dar Continuità In un certo senso E mi ha ripagato Con questo gol Che potrebbe essere Fondamentale Per il nostro campionato 1-0 La sblocchiamo Dopo Veramente Un'ora di gioco Bloccatissima E complicatissima E occhio Possiamo ancora Distenderci Con E Bravo Diomand Dai che oggi La decidono i centrocampisti Diomand Che peccato ragazzi Qua miracolo De portiere E occhio Al corner Riesce a tenerla Cambi contenitivi Allora ragazzi Dentro il doppio centrocampista Quindi Ba e Taylor Per Diomand E Galbraith E poi In attacco McKinley Hackford E beh lì Come al solito Potevo mettere Turei Ma sinceramente Sì ragazzi Si ragazzi potrei farlo Forse No però il centrocampanti Fresco è importante Quindi lasciamo le cose così come stanno Perché comunque poi la difesa sta giocando bene Quindi non voglio spezzare nessun equilibrio di questa partita Quindi cerchiamo di continuare così Bravo Phillips Madonna Phillips Quanto mi piace Phillips Occhio Hackford Vai Hackford Regalati questa gioia Il mancino di Hackford Sotto l'incrocio Esplode Moorlaine Arriva Il 3 a 0 Che si Adesso sa Di sentenza Di vittoria 3 a 0 Per noi ragazzi Sono felicissimo Perché questa partita Andava vinta Ad ogni costo E l'abbiamo vinta Pure bene 3 a 0 Che sicuramente È un passivo Troppo pesante Per questo Sunderland Che appunto Non lo meritava È stata una partita Molto equilibrata Fino al sessantesimo Poi giustamente Dopo che si è sbloccata Abbiamo trovato più spazi Come ovvio che sia Quindi ragazzi 3 a 0 Pesantissimo Speriamo che possa essere Non dico la svolta Perché comunque Stiamo andando bene Però che possa essere Quei 3 punti in più Possono essere Quei 3 punti in più Che ci facciano stare stabilmente Al secondo posto E ok ragazzi Subito in campo Contro i Bristol Rovers Ottavo in classifica Quindi sicuramente Partita non semplice Però giustamente Un'occhiata Alla classifica Che ci vede adesso Stabilmente Al secondo posto Anche a meno 3 Rispetto al Roderam Però ragazzi Non è la prima volta Che ci troviamo A meno 3 Dal Roderam Penso che come al solito Riusciranno a staccarsi Ancora di più Quindi sinceramente Io punterò A mantenere questo Secondo posto Darò tutto Per evitare I playoff E soprattutto Per salire Già subito In championship Che sarebbe fondamentale Quindi ragazzi Scendiamo in campo Siamo in casa Un'altra volta Southford Bristol Rovers Ci sono dei cambi Perché appunto Adesso abbiamo ragazzi Letteralmente 3 partite In manco 7 giorni 6 Comunque Popa Sirkin Leak Phillips Bolton Woot Diomand Bah McKinley Hackford E Vale Occhio subito A Collins Che si rende molto pericoloso Qui subito occasione Per i Bristol Rovers Bravissimo Come al solito Il nostro Popa E occhio al corner La palla Rimane lì E ci salviamo E occhio ragazzi Al Bristol Rovers Che avanza Occhio Che provano a girarsi Madonna Qui ragazzi Non idea Di come abbiamo fatto A non subire gol Qui proprio Per centimetri E occhio Madonna Qui l'avevo vista Dentro Sempre questo Collins Ma ancora Palla fuori Occhio Vale Riesce A passare Qui grandissima giocata Di Vale Attenzione Vale L'appoggio corto No ragazzi Non ci credo No non è possibile Ragazzi Avevo dato per scontato Che la palla passasse Non ci credo ragazzi Veramente Un peccato Qui ci siamo mangiati Un gol No qui Lick Non riesce A tenere A tenere Il giocatore Avversario Arriva Un altro Grande intervento La parte di Popa Ma come immaginavo La partita è molto Scorbutica È molto complicata Sembra effettivamente Molto simile A quella con Sander Che abbiamo visto Prima Però ragazzi Occhio che adesso Possiamo provare a ripartire Addirittura con Gut Che si spinge in avanti Deve farlo È giusto così Prova ad azzare questo valore Molto bene per Bill Attenzione C'è l'inserimento di Hackford Che peccato Un altro Un altro passaggio Sbagliato A ciò che c'è McKinley È tutto regolare McKinley Chance Chance per i Bristol Rovers Bravo Bolton A diventare il calcio d'angolo Però ancora Popa Come sempre Deve metterci una pezza E occhio Qui Popa Ci mette letteralmente La faccia Gran parata Ma c'è ancora i Bristol Rovers Che forse è quella È quella che fra le due Meriterebbe di più il vantaggio Ancora Collins Ma soprattutto Ancora Popa Un altro intervento Stratosferico Occhio Evans Si girano E arriva Un miracolo Di Popa Ragazzi ma questo Bolton Cioè scusate Questo Bristol Rovers Non è la stessa squadra Che recentemente Ho battuto 6 a 2 Se è così Impazzisco Perché sono fortissimi Adesso Cambi ragazzi Assolutamente Cambi dentro Mendes in difesa Per Bolton Galbraith Per Ba E in attacco Odebert Coné E Bailey Occhio qui Sorkin Bravo a recuperare Questo pallone Possiamo provare Ripartire Coné Prova a scambiare Con Bailey Che deve correre Forza Ba Gli riesce Da zalla Si che ci riesce Per Coné Coné col sinistro Tiro troppo centrale Peccato perché Avamo ripartiti Benissimo Qui Odebert E qui Bello scatto In avanti Lo scambio Con Diomand La palla Non passa Diomand Lotta Ragazzi Molto sfortunati In questo finale Di partita Con i rimpalli Comunque Mancano 4 minuti Questa qua è proprio Una partita Che non è da 0 a 0 Per le occasioni Che si sono viste Però Sembra proprio Che finirà così Comunque Possiamo Provare forse In ultimo a fondo Non so che cosa Ha fatto Odebert Comunque Calbret La gira Per Belì Che prova ad andare Belì Dai che sei fresco Dai che sei veloce Belì D'appoggio Coné 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 da impazzire 1 a 0 Si sblocca nel finale Coné Coné Madonna ragazzi Piangersi addosso Funziona sempre È una cosa incredibile Ragazzi Comunque Riusciamo A segnare Letteralmente All'ultimo secondo Con Musa Coné Nostro bomber Il nostro Giocatore Più forte Forse Che c'è in rosa Comunque Sicuramente Quello più decisivo Quello che Deve dare una marcia in più Comunque ragazzi Qua bravissimo Belì Bravo Calbret A far partire Il nostro numero 10 E poi Coné A porta vuota Non poteva sbagliare Che belle queste vittorie Così ragazzi Oggi Tre partite Una più bella Dell'altra Soprattutto Tutte e tre Molto Realistiche Se posso permettermi Comunque ragazzi 1 a 0 Vittoria pesantissima Che dà continuità Alla vittoria Ancora più pesante Contro il Sunderland Io già sinceramente Ero spaventato Dalla partita successiva Al Sunderland Questa quindi E fortunatamente Non proprio meritando Ragazzi Perché il Bristol Ora ha costruito Tante tante azioni Dobbiamo Come al solito Ringraziare Popa Però comunque Abbiamo avuto Questa chance Da squadra forte Siamo stati bravi E siamo stati bravi Ad approfittarne Ed oggi ragazzi Che ho visto Una cosa clamorosa Si è giocato Sunderland Rotterdam E hanno pareggiato 0 a 0 Anche noi Stavamo pareggiando 0 a 0 Ma nel finale È arrivato Questo call Che quindi È ancora più pesante Quindi Quindi ragazzi Classifica Classifica Adesso è fondamentale Vediamo ragazzi Ligue 1 Siamo secondi In classifica Guadagniamo Tanti punti Da Sunderland Ragazzi Che questo qui È il momento Decisivo Della stagione Dove forse Possiamo fare anche Quel passettino In più In avanti E puntare Al primo posto Dobbiamo ancora Affrontare i Rotterdam Quindi abbiamo Lo scontro Diretto E però Questo più 6 Dal Sunderland Ragazzi È molto Molto pesante Comunque Arriva addirittura Un'offerta Per Huckford Da parte Del Pisa Eh ragazzi Qua Non rifiuto A prescindere Perché Mi viene da pensare Nel senso Che Huckford Non è che Ci sta facendo impazzire Comunque Non è il titolare Di questa squadra Mi sarei aspettato Già l'anno scorso Che potesse essere Più continuo Più decisivo Invece Proprio perché Volevo essere sicuro Di fare una bella stagione Di avere un centravanti forte Ho fatto di tutto Per prendere un giocatore Come Conee Senza contare Zanzala E quindi ragazzi Diciamo Questa necessità Di fare Di fare L'acquisto Di Conee Vuol dire che Huckford Non è che Ci soddisfi tantissimo E questo Vuol dire Che si può Teoricamente Trattare Con Qualche squadra Il Pisa Serie B Italiana Ci potrebbe stare Però ragazzi Eventualmente Vorrei Tanti soldi Andrei a chiedere Come base iniziale 4 milioni E poi Potrei scendere Tipo A 3-8 Qualcosa del genere Vediamo un attimo Ragazzi Perché può essere Che rifiutano subito Quindi Proviamoci 4 milioni Per Huckford Ci danno Idrissa Turek Un giocatore Che conosco Perché ho visto La carriera Di Tiz Sto guardando La carriera Di Tiz Però non so Quanto è di overall La tensione è salita Ma neanche troppo Ragazzi Io ripropongo Sinceramente La stessa offerta 4 milioni Ci danno Tramoni Che è un buon giocatore Però ragazzi Rifaccio 4 milioni Perché Vorrei venderlo No Hanno accettato Hanno accettato Hanno accettato Colpo di scena Clamoroso Ragazzi 4 milioni Per Huckford E ragazzi Ve l'ho detto Ho accettato Di trattare Solamente Perché Huckford Non è che Mi ha fatto Impazzire In questi anni In carriera Quindi È giusto Ragazzi È giusto Che io Faccia Questa trattativa E poi ragazzi 4 milioni Per un giocatore Che ne vale 2 È tantissimo Ragazzi Sì Anche lui Come Phillips Può crescere Tanto Però Secondo me Abbiamo fatto La cosa giusta Soprattutto A questa cifra Ragazzi Secondo me Va benissimo 4 milioni È tantissimo Per una squadra De Ligue 1 Quindi raga Andava fatto In un certo senso Così Ravviviamo Tra virgolette Anche il nostro mercato Adesso devo fermarmi Perché il video Sarà sicuramente Abbastanza lungo E quindi ragazzi Prossima puntata Abbiamo il doppio scontro Con il Liverpool Eventualmente in Basli Ma ragazzi A questo punto Ovviamente Si infiamma Il calcio mercato Perché Proprio nel finale Arriva Questa clamorosa Offerta Da parte del Pisa Per Huckford Che noi abbiamo Accettato Diciamo Alzando Spremendo tantissimo Il Pisa E quindi ragazzi Questo vuol dire Che ci serve Un nuovo attaccante Quindi ragazzi Io per l'appunto Per oggi Mi fermo qua Come al solito Mi invito Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Assicurimi sulla pagina Instagram A sostienire il canale Tramite una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti